Buongiorno ad FTI Online, avvio sulla parità questa mattina per la borsa, Futsi Mib in calo dello 0,1%, siamo comunque nella porzione centrale del range che i prezzi hanno disegnato nelle ultime due settimane circa, quindi ancora incertezza, ancora difficile dire quale sia la propensione del mercato, resta il fatto comunque che siamo al di sopra dei massimi di giugno che sono un importante supporto e fino a che rimarremo al di sopra di quei livelli resta la possibilità di andare a prendere il lato alto di questo canale crescente che vedete sul grafico disegnato dai minimi di fine gennaio, quindi incertezza sì, però fino a che non ci saranno segnali contrari resta possibile il test dei massimi d'agosto e anche il loro superamento con movimenti fino ai 27.100 punti circa. La situazione è confermata anche dalla propensione rialzista del petrolio, la situazione è positiva delle borse, c'è sicuramente una correlazione diretta tra questi due mercati, questo LTF relativo al Brent come codice crude, vedete con i massimi che sta toccando sono intorno ai 26 Euro, con i massimi che stanno toccando i prezzi siamo arrivati sul lato alto di questo canale ribassista che parte dal massimo di luglio, la rottura del lato alto del canale, quindi il superamento di area 26, confermerebbe l'intonazione positiva, il canale verrebbe identificato come un flag, ovvero sia una figura di continuazione del trend rialzista precedente, e si aprirebbe uno spazio di rialzo significativo probabilmente anche al di sopra dei massimi di luglio. Attenzione perché ovviamente fino a che il lato alto del canale non viene superato, quindi fino a che non ci sarà una chiusura di sopra di area 26, resta invece elevato il rischio di una fase di ripiegamento a partire da questa resistenza, quindi uno strumento da seguire con molta attenzione, basterà un piccolo sforzo aggiuntivo per inviare un interessante segnale d'acquisto, fino a quel momento ovviamente rimanere solo in attesa. Oggi ci occupiamo di tre titoli del mercato italiano che sono graficamente abbastanza interessanti o che hanno delle storie da raccontare, come ad esempio Eni, ma guarderemo anche Sara Sestellantis, ma iniziamo proprio con Eni che ha inviato un segnale interessante superando questa trend line, anzi andando a testare ieri questa trend line, che funziona ancora la resistenza e intorno ai 10,41-10,42, fino a che i prezzi rimarranno al di sotto di questo ostacolo c'è il rischio che si vada incontro in una fase di ripiegamento, se invece area 10,41-10,42 verrà superata sarà possibile una evoluzione positiva più rilevante. Dove potrebbero arrivare i prezzi in caso di ripiegamento? Andiamo a guardare la media mobile esponenziale 20 giorni dove passa, questo è un primo supporto significativo, intorno ai 10,27, sotto quei livelli il rischio invece di ritorno fino a 9,98. Pertanto su Eni, come abbiamo visto anche per il prezzo del greggio, siamo arrivati in prossimità di una forte resistenza, manca ancora lo sforzo finale per superarla e inviare quindi un segnale di acquisto. Per quello che riguarda Stellantis, abbiamo i prezzi che si stanno dirigendo ormai verso la base di questo gap rialzista che è stato lasciato il 3 di agosto e la sua base è a 16,57 euro circa, il rischio che i prezzi arrivino fino a quei livelli per poi tentare una reazione c'è e se andiamo a guardare la linea di tendenza che parte dai minimi di fine ottobre, e tracciamo la sua parallela, vediamo che siamo in un bel canale crescente e se dovessimo scendere al di sotto anche della base del gap del 3 di agosto c'è poi il rischio di arrivare sulla base del canale a 15,82. Se invece il supporto a 16,56, 16,57 dovesse confermarsi solido avremo la possibilità di salire verso il lato alto del canale a 19,30. Quindi ancora un po' di pazienza, aspettiamo che i prezzi scendano ancora un po' più vicini al supporto magari per iniziare a fare degli acquisti con uno stop subito al di sotto di area 16,55. Infine guardiamo Saras che ieri ha inviato un bel segnale di forza, c'era questo potenziale testaspalle rialzista in costruzione, la neckline del testaspalle è stata superata ieri con una bella accelerazione al rialzo, il target della figura lo possiamo individuare intorno agli 0,77 euro dove c'è appunto la proiezione dell'ampiezza del testaspalle dal punto di rottura. Sopra quei livelli abbiamo poi la possibilità di salire fino a 0,8034 che è il lato alto del gap ribassista del 21 giugno. Solo se dovessero tornare sotto la neckline del testaspalle, quindi solo sotto area 0,69, il segnale di forza verrebbe negato. Oggi per quello che riguarda invece il video riservato agli utenti Patreon ci occupiamo di Amazon, Apple e Microsoft che ieri hanno messo a segno tutti dei bel rialzi, tra l'altro nel caso di Amazon e di Apple sono state superate anche dalle importanti resistenze, quindi guarderemo il grafico di questi importanti titoli che condizionano con il loro andamento un po' tutti gli altri mercati. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero. Grazie a tutti.